Benvenuti amico alle ultime notizie di oggi.La padrona di casa ha finalmente parlato in merito alla questione dei giudici della prossima edizione del talent show di Rai 1 Da alcune settimane, ballando con le stelle è al centro del gossip in merito alla sua giuria e a chi potremmo rivedere nella prossima edizione Sono girati tanti rumores a riguardo, addirittura una possibile Barbara D'Urso che fa la sua comparsa in Rai, lasciando Mediaset Ma nei saluti finali a pomeriggio 5, la conduttrice ha detto chiaramente che ritornerà a settembre. Dunque, per il momento non si è certi su chi potremmo rivedere seduto in giuria nella prossima edizione Anche perché sulla pagina ufficiale del talent show hanno iniziato ad elencare una lista di possibili nomi papabili per fare la giuria Tuttavia, abbiamo una conferma, Selvaggia Lucarelli, sulla quale si è sentito parlare di un plausibile addio, ha confermato la sua presenza durante un'intervista alla rivista Chi Ma la padrona di casa, ovvero Millie Carlucci, ha dichiarato tutt'altra cosa Ballando con le stelle dovrebbe tornare non dal prossimo autunno e adesso sono in corso i casting per scegliere i nuovi concorrenti Tuttavia, il pubblico italiano è molto più curioso di sapere se la vecchia leva, compresa la Lucarelli che si è già autoconfermata, composta da Ivan Zazzaroni, Fabio Canino, Terrolin Smith e Guillermo Mariotto, sarà confermata oppure no Le parole di Millie Carlucci.A dissipare ogni dubbio è stata proprio la timoniera del talent di Rai 1 Millie Carlucci, durante un'ospitata al programma da noi.A ruota libera, condotto da Francesca Fialdini, ha finalmente detto la verità in merito alla giuria della prossima edizione di Ballando con le stelle La presentatrice ha così rivelato, più avanti, a settembre, si parlerà di giuria e di tutto il resto Però posso dire che non è stata riconfermata. Stando alle parole di Millie, l'attenzione non è focalizzata sulla giuria, al momento, perché sono concertati ed impegnati a trovare il cast per la prossima edizione Il destino della giuria di Ballando con le stelle.Dunque, tirando le somme su quanto sappiamo finora, la giuria del talent show in onda in prima serata su Rai 1 è ancora tutta da riconfermare Sembra proprio che, per il momento, l'attenzione non sia dedicata sui giudici, ma sui possibili concorrenti della nuova edizione del programma Come ha spiegato Millie Carlucci, verso settembre potranno dedicare del tempo alla giuria e vedere se dietro al famoso bancone verranno riconfermati i soliti vecchi giudici oppure ci sarà una ventata d'aria fresca e cambieranno anche loro Non ci resta che attendere fino alla fine dell'estate per scoprire qualche dettaglio in più Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere Non dimenticare di iscriverti al canale e fare clic sull'icona della campana per ricevere aggiornamenti da me Arrivederci, al prossimo video Grazie a tutti